Sono 40 anni che vengo in questo meraviglioso posto e ho partecipato alla prima maratona cui percorsero 186 chilometri con 7 passi dolomidici di cui il passo Duram non asfaltato. Una sera io e il mio amico Giorgio Polloni siamo andati a bere una birra all'albergo a posta cui il proprietario è Eduard Tavella che è l'organizzatore, l'ideatore, il factotum della prima maratona. Parlando così lui si prospetta questo tipo di maratona e io gli ho detto senti Eduard se a noi due ci dai il numero uno e il numero due partecipiamo anche noi. A quel punto dovevamo decidere chi pigliava il numero uno e il numero due. Abbiamo sorteggiato con 100 lire di allora al mio amico Giorgio Polloni toccato l'uno a me il due. Io sono qui con altri amici del club per racere la maratona. Abbiamo circa 15 minuti del club, ma siamo anche parte di un gruppo di 300 ritori di Cycling Weekly, che è una grande magia di Cycling in l'Unione Europea. Alla fine di Hollandia, tutti i miei amici dell'Unione Europea. Alla fine di Hollandia, tutti i miei amici dell'Unione Europea. Alla fine di Englandia, Manchester. Alla fine, sono i sporti. Alla fine, sono i miei sporti. Spagna, Barcelona, Madrid, 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 bicicletta, jodido, jodido, duro, molto duro. We don't know, we don't know. Hello, to Paloani Live. Hello, Paloani Live, hello. Dopo la prima maratona, io ho sempre collaborato all'organizzazione di questa fantastica manifestazione. Per noi, il momento bello è quando tutto fila liscio. Io collaboro sempre con i numeri uno e questa è la numero uno di tutte le maratone.